Una serie di spettacolari esplosioni, otto feriti e migliaia di evacuati. È successo questo lunedì in Siberia dopo un incendio e un deposito di munizioni, uno dei più vecchi in dotazione all'esercito russo. È successo nella regione di Krasnoyarsk. Per domare l'incendio non è bastato tutto il giorno e la sera. Al tramonto lingue di fumo ancora si levavano dalla struttura contenente decine di migliaia di proiettili di artiglieria. Ancora ignota la causa dell'incidente, ma la regione è in stato di emergenza con ben 15.000 residenti evacuati. Disastro si aggiunge a disastro. La regione di Krasnoyarsk è infatti tra le più colpite dai devastanti incendi delle ultime settimane che hanno mangiato milioni di ettari di verde in Siberia, producendo, secondo una stima di Greenpeace, CO2 come 36 milioni di auto in un anno.